Tu compri le rose e tu dici per chi? Ma per chi compro le rose? E' per la tua ragazza, dai per lui Ma io sono sposato la mamma Ah, ci capi! E' per la tua ragazza, almeno 7 euro, 8, 9 E' per la tua stella Quante sono queste rose? 10 15 euro 21, 24 flowers 10 flowers, 20 flowers 21 Ecco eh Lui è un bravo ragazzo Lui è un bravo ragazzo No, mia pahide Mia pahide qua c'è Dai, immacima, prossima volta dai